Come la vivi la settimana santa? Ci riesci a raffa' come tutti quanti? Dicendo prevedi amico mia che stiamo chiudendo la vista mia, non vi faciti fricare d'un brutta bestia sino d'un periodo di Pasqua chi vi resta? Ova, d'orci, cucule e pastiere, una Pasqua senza contenuti, senza pensieri, senza congiussioni cristiana, una Pasqua pagana. Su tante le funzioni che la Chiesa ti presenta, non fare lo fissa, ma tassetta ti li senta. Vi crucis, priedichi, mensi missi, campani legati rappresentano la Passione che Gesù ti ha regalato. Più ti salvare dei piccati, a tia è la razza che ti ha creato. Ma per chi nella settimana santa non la può fare? Per chi i campani legati sono sempre in là? Più malato, depresso, i tati in già un lieto, sofferente e sconsolato con un crucifisso in vietto? Esisti in un modo per si fa aiutare? Com'ha di fare per si fa a perdonare? Di un giuglietto da sofferenza, l'anima un'è senza speranza. Ubbide rosiente vicina, Gesù inchiudata da croce, ma pittia te ne sembra una parola dolce. Grida forte insieme a Reggio, picchi puro tu, venne portata a Roma a Ceggio. E quando l'occhio tua si stutano stancate, un corpo è distrutto e l'anima è sfiancata, all'anto della porta lo vede arrivare, o guarda in giù la faccia ci volesse parlare. Con quanta forza ti rimani o volessi accarezzare, ti guarda e ti dici, signo capiti guarire. Ci cerchi la benedizione, chiudi l'occhio, vascia a capo e con un gesto d'amore ti dona la pace e la risurrezione. Buona Pasqua a tutti quanti voi.